Mi raccomando, teniamo fermi questi sentimenti perché si deve capire che c'è chi è preoccupato di quello che sta avvenendo e noi stiamo molto preoccupati, ripeto, sono commosso di vedere questa piazza con una intensità e una folla che non mi sarei mai aspettato. Grazie perché ne abbiamo bisogno. Grazie.